Partita da Circoletto Rosso per l'Amescuola Baschetta Rezzo che sabato alle 21.15 al Palapoggetti di Cecina sfiderà i padroni di casa della Sintecnica. Cecina si trova al primo posto della classifica in coabitazione con Prato e Castelfiorentino, guidata in panchina da coach da Prato ed in campo dagli esperti Bruni e Fattori attorno ai quali è stata costruita una squadra super competitiva. Cecina si è già giudicata la Coppa Toscana poco più di un mese fa ed attualmente può vantare il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, questo per far capire le difficoltà a cui andrà incontro la squadra di coach evangelisti sabato sera. Per poter impensierire i rosso-blu padroni di casa, i ragazzi di coach evangelisti sono quindi chiamati alla prestazione perfetta.